Ciao Gasoli, allora non sto neanche a vedere il finale dell'Inter, una vittoria sicuramente molto importante per l'Inter, una vittoria che è figlia, anzi io penso che la ripresa dell'Inter essenzialmente sia stata figlia, tutta quella che è poi stata la ripartenza dell'Inter dopo quel periodo negativo, sostanzialmente del ritorno di Brozovic, perché togli Brozovic all'Inter e l'Inter si spegne, ridai Brozovic all'Inter e l'Inter si accende, sicuramente un giocatore importante, un giocatore di altissimo livello e che per loro è stato determinante in un senso o nell'altro. Che dire, per noi nulla cambia, nel senso dovevamo vincere prima e dovevamo vincere dopo, cambia per l'Inter, quello sì, perché l'Inter rimane sicuramente sul pezzo, momentaneamente è in testa, però ricordiamo che c'è la partita anche del Bologna, anche quella lì, bisogna vincere, questo campionato abbiamo visto tante, tante, tante volte, partite facili da una parte e dall'altra, sbagliate, punti scontati che non si sono verificati e quindi io, malgrado tutto, malgrado quello che sto vedendo sui social, perché davvero da quando c'è stato il primo gol con la Roma dell'Inter io ho visto i soliti, diciamo, milanistica cold, come li ho definiti, quello a cui piace proprio soffrire, andare subito sulle pagine degli interisti su YouTube, dire abbiamo perso, complimenti a voi, siete stati più bravi, noi facciamo schifo, il solito atteggiamento dovrebbe dire da sberle, anziché pensare a tifare la squadra e a pensare positivo, no, subito già tutti con il, come si dice, il cilicio a fare penitenza, dovrebbero andare a fare come i battenti, battersi il petto con il sughero imbevuto d'aceto e dirsi che fanno schifo, umiliarsi il corpo, non lo so, non riesco davvero a percepirlo, questo modo di tifare, per me non è modo di tifare, non fa bene a nessuno né a loro, perché cosa vuol dire? Se l'Inter vince lo scudetto, vince lo scudetto e ci preoccuperemo e ci dispiaceremo nel momento in cui lo vincerà, ma fin tanto che siamo in lotta, ma che senso andare a umiliarsi e a dannarsi e qui e là e su e giù, ma tifate Milano finché si può, finché avete fiato il corpo, ma cosa vuol dire andare a massacrarsi? In anticipo addirittura, Milano deve ancora giocare, ma che cavolo vuol dire? Davvero non, questa cosa non ha alcun senso, non ha alcun senso. Stavo vedendo un'altra roba che è la Roma, la Roma è oggettivamente imbarazzante, stavo vedendo, finendo la partita, ma vabbè, si sa che è così, ma l'Inter sta facendo una buona partita, ci mancherebbe, insomma comunque davvero, il messaggio che deve passare è che per noi non cambia nulla, nulla cambia, domani cambierà, domani sì, il risultato di domani cambierà la prospettiva, ma quello dell'Inter non ce ne deve fregare, ok? Certo, ci ha fatto piacere magari un inciampo, non c'è dubbio, non lo nego mica, assolutamente, ma la grande squadra non deve guardare quello che fa gli altri, deve giocare. Io voglio che Milano andia tutto per tutto, entri con la unità giusta in campo, si impegni, utilizzi la cazzimma, come si suol dire, dopodiché vada come vada, io sarò contento, a prescindere, perché è stata una grande stagione dove abbiamo lottato fino all'ultimo, e dove lottiamo fino all'ultimo su Tifonti, una stagione dove possiamo ancora vincere lo Scudetto, quindi a prescindere io sono contento, una squadra in ascesa. Ci ho detto, chiaramente, quello che mi fa più contento è vedere queste ultime partite giocate dal Milan come il Milan può fare e sa fare. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo naturalmente domani. Ciao!